Ciao lettrici e lettori, bentornati su Miss Fiction Books, io sono Fanny e oggi vi faccio la seconda parte del video sui consigli per la sopravvivenza al Natale grazie al binge watching. Se non l'avete ancora visto ovviamente ve lo linko qua sopra così non vi siete persi nulla e poi anche qua sotto perché insomma, vabbè, direi di continuare a proseguire. Questo è il video dove io vi suggerisco tutto ciò che secondo me è giusto bingeare durante il periodo natalizio per riuscire a sopravvivere a queste feste per noi che non amiamo il Natale ma anche per chi lo ama e magari non sa cosa fare e quindi tra una fetta di panettone, i tortellini e tutto il resto, quando volete digerire queste sono le serie che secondo me sono validissime, perfette per il binge watching e perfette per diventare i vostri sottofondi di queste feste. Quindi, quante volte ho detto feste? Vabbè, partiamo. Ieri mi sono concentrata sui drama, sui crime, sui gialli, sulle serie comiche e sui teen drama cioè teen drama, teen. Oggi invece direi che è arrivato il momento delle serie fantasy potremmo definire comunque serie assurde, fantastiche eccetera e di quelle storiche e parto proprio da queste. Io ho una grandissima passione per le serie storiche, le serie in costume avendo un po' questa nostalgia di tempi passati che non potrò mai rivivere o vivere del tutto. La prima che vi suggerisco in realtà è una super nuova uscita in italiano che però io ho visto in lingua ed è oggettivamente la mia serie preferita del 2018, quella che ho visto proprio con trasporto ovvero la fantastica Mrs. Maisel che trovate su Amazon Prime. La prima stagione conta di otto episodi ma stanno producendo la seconda quindi arriverà anche quella tra le producer cioè Amy Sherman Palladino che tutte noi amiamo, veneriamo e conosciamo per Gilmore Girls e quindi insomma è un po' una certezza. Mage Maisel è appena stata lasciata dal marito e mentre lei pensava di avere questa vita super perfetta si ritrova un po' con il mondo che le crolla addosso e l'ex marito Joel cercava continuamente di sfondare come comico mentre lei gli dava una mano. Ma dopo essere stata lasciata ha questa sorta di sfogo da sbronza su un palco dove si capisce che il vero talento tra i due non è Joel ma è la moglie e da lì scopriremo che Mage cercherà di fare strada e di trovare il suo posto nel mondo della comicità, della stand up comedy. Insomma seguiremo le sue vicende in questo nuovo universo che sta esplorando, in queste nuove capacità che ha scoperto di avere. Allora io l'ho adorata perché è veramente bellissima, curatissima e come tutto ciò che fa la Palladino ha soprattutto dei dialoghi pazzeschi. È veramente scritta molto bene, ha un'evoluzione che fa vedere tutti i lati del personaggio. Non è la classica serie dove lei scopre una cosa e magicamente va tutto bene anzi fa vedere un personaggio super in crisi che sta cercando di capire quello che sta succedendo alla sua vita e magari di non pensare che forse è tutta una tragedia e che sta tutto andando a rotoli. In realtà è molto divertente, è veramente divertentissima io vedere il personaggio di Mage spronza sul palco che afferra. A me queste cose piacciono tanto, quindi io vi suggerisco tantissimo di vederla se ancora non vi è capitato. So che è una serie che stanno suggerendo tutti ma veramente anche dal mio punto di vista è molto molto valida. In questo caso io vorrei fare un po' una sorta di sbalzo temporale, no? Siamo agli anni 50 e ora vorrei andare nella guerra fredda, sempre però più avanti. Una serie che mi è piaciuta davvero molto, molto recente è Deutschland Drei Unazisch, ovvero Deutschland 83. È una serie tv tedesca, è una mini serie tv tedesca andata in onda nel 2015 che trovate su Now TV ad esempio Sky Go, conta di 8 episodi. Siamo infatti nell'autunno del 1983, ci troviamo in Germania al confine proprio tra le due Germanie. Diciamo la situazione è molto tesa, soprattutto a Berlino Est perché arrivano continuamente minacce, come se dovessero da un momento all'altro bombardare la parte est della città. E proprio per questo motivo la Germania dell'Est decide di mandare il povero Martin Rauch, che è un soldato semplice, a spiare quelli dell'Ovest. Però è un soggetto totalmente improbabile in questa operazione, soprattutto non è proprio il personaggio giusto. E il suo compito è quello di scoprire se effettivamente effettueranno l'attacco e dove sono nascosti i missili della NATO. Sarà un casino, ecco. Per me è una serie fatta benissimo, a me devo dire che le serie in generale del nord Europa stanno piacendo molto perché hanno una cura e stanno avendo davvero tantissimi finanziamenti e si vede perché sono tutti prodotti che stanno uscendo molto curati, molto solidi per certi versi. Questa è una serie che a volte pecca un po' di ingenuità in alcuni casi, però riconosco moltissimo anche un certo humor tedesco che non tutti apprezzano, non tutti capiscono, però in realtà è molto brillante, ricorda moltissimo anche Goodbye Lenin come atmosfera, come ambientazione, come anche tipo di ironia, quella che si faceva magari nella Germania dell'Est ridendo un po' sulla propria condizione, un po' vivendo in questa paura conflittuale. E soprattutto seguiamo un personaggio che è improbabile, viene mandato a fare una delle missioni più importanti del 1983. È divertente, è super ironica e ha una ricostruzione storica molto accurata, ha davvero un pregio visivo anche per le inquadrature, per i colori, per tutte queste cose che secondo me la rendono unica e da vedere. Ha una sigla bellissima, una colonna sonora bellissima. Ragazzi, purtroppo ho una grande fissazione con gli anni 80, soprattutto del nord Europa, quindi figuratevi quando c'è partito il pezzo iniziale della sigla, cioè amore a prima vista. Se avete già visto tutto, non sapete cosa vedere, questo magari non vi era mai capitato oppure non l'avevate mai considerato. Vabbè, facciamo altri salti temporali e da qua facciamo un balzo abbastanza strano per arrivare a una di quelle che sono le mie mini serie BBC preferite degli ultimi anni, che anche questa trovate su Naughty di Sky Go, eccetera. Non so se è disponibile anche su altre piattaforme, comunque sto parlando di piccole donne della BBC. È una mini serie targata BBC, quindi una grandissima sicurezza, andata in onda nel 2017 e conta tre episodi. È ovviamente la serie tratta dall'amatissimo romanzo di Louisa May Alcott, che segue le vicende della famiglia March nel periodo della guerra civile americana. Quindi sullo sfondo troviamo sempre le loro vicende familiari, personali, ciò che significa anche crescere in questo periodo, ciò che succede e anche la devastazione della guerra e ciò che sono le conseguenze della guerra per chi la vive da vicino o per chi ha dei parenti coinvolti. Per me è fatta veramente molto bene, io sono una grande amante anche del film. Questa serie devo dire che riesce a essere molto vicina a quelle sensazioni, riesce ad essere molto familiare, molto accogliente nelle sue ambientazioni, nel suo modo di fare e quindi per me risulta una serie veramente molto bella, molto appassionante. E ve la suggerisco tantissimo se non l'avete mai visto, se volete qualcosa per andare anche sul sicuro, ecco, guardatela. Altra serie che a mio parere ha ricevuto davvero pochissima attenzione in maniera molto immotivata è Versailles. Io dico Versailles, se si dice in un altro modo abbiate moltissima pazienza. È una serie tv franco-canadese andata in onda dal 2015 al 2017 per un totale di tre stagioni e 30 episodi e segue le vicende del Re Sole prima che diventi il Re Sole, quindi quando è solo Luigi XIV sta cercando di costruire proprio Versailles come simbolo del potere. Il protagonista è George Blagden che magari molti di voi conoscono per Vikings e per me è una serie che ha davvero tanti spunti positivi, ha anche dei difetti assolutamente, soprattutto ha una costruzione abbastanza lenta, però secondo me noi generazione venuta sua a pane e lady Oscar non possiamo non apprezzare tutto ciò che rappresenta. È davvero curatissima dal punto di vista estetico, ha delle anche riprese veramente molto belle, delle ambientazioni che raccontano l'evolversi di Versailles ed evolversi di quello che poi diventerà proprio un vero e proprio centro di potere, dell'idea che aveva l'uomo Luigi XIV è ciò che è riuscito ad ottenere, ciò che sperava di ottenere, ciò che ha ottenuto ovviamente e per me è veramente molto valida, io non ho capito perché non ha avuto grande successo, comunque la trovate su Netflix e se amate le serie storiche questa per me è molto valida e ve la suggerisco assolutamente. Va presa con le pinze perché un po' di trash ce l'abbiamo ma noi un po' di trash nelle serie storiche non guasta secondo me mai troppo, cioè quando è troppo però è terrificante. Quando ce n'è un pelino come in questo caso secondo me non è quasi un difetto. Poi io non so neanche se è giusto metterle nelle serie storiche, forse era meglio metterle nelle serie drammatiche, però queste sono davvero due delle mie serie preferite, quelle che vi sto per raccontare, però visto che siamo qua non ve le ho dette nella puntata precedente quindi è giusto che ve ne parlo oggi e come non citare tra le serie consigliatissime Port Walk Empire. Port Walk Empire è andata in onda dal 2010 al 2014 per 5 stagioni e un totale di 56 episodi e una volta entrati dentro questa serie rivaluterete un po' tutte le vostre questioni etiche fondamentali e le vostre opinioni. Siamo nel 1920 in pieno proibizionismo ad Atlantic City e quale periodo migliore è per un politico corrotto che è anche un mezzo mafioso come Naki Thompson che vede un'opportunità in ogni angolo e seguiremo tutte le sue vicende, seguiremo anche tutto ciò che ruota attorno, ciò che va storto, tutti i personaggi che sono vicini a lui, incontreremo anche Al Capone. Secondo me è una di quelle serie che ti fa vedere proprio il marcio, ma il marcio quello vero e anche l'opportunismo, l'egoismo delle persone ti introduce anche in situazioni veramente torbide e che lo fa con un'accuratezza, una bravura. Poi vabbè c'è Steve Buscemi che secondo me basta anche quello no? È davvero una delle mie serie proprio preferite perché la trovo geniale, è super super geniale, quindi se non l'avete mai vista, fatelo. E insieme a questa, cioè ovviamente non posso che parlarvi della serie che è la mia serie degli anni 2010, cioè una volta che le mie serie preferite preferite sono finite, io continuavo a non trovare qualcosa che le potesse sostituire. Quindi, quindi, visto che siamo a Natale e se non l'avete vista è una gravissima colpa, perché non iniziare Peaky Blinders? Peaky Blinders è una serie tv britannica andata in onda dal 2013 e tuttora in produzione, però racconta quattro stagioni ed un totale di 24 episodi. Ci troviamo a Birmingham nel 1919, proprio alla fine della guerra, e ci troviamo in una città dove tutti lottano per sopravvivere. Noi seguiamo la storia della famiglia Shelby soprattutto e della loro punta di diamante, nonché bono assoluto, ovvero Tom Shelby, e della gang della quale fa parte, del quale tutti più o meno sono confluiti, ovvero i Peaky Blinders. Tra lotte di potere, conoscenze pericolose, situazioni veramente estremamente, estremamente violente, ma non solo, c'è anche tanti intrighi, sottobanco, questioni amorose, eccetera eccetera. Come si fa a non amare Peaky Blinders? Cioè, per me è proprio la serie meglio costruita degli ultimi anni, e vabbè c'è Cillian Murphy che ripeto è... che dire? E vabbè, niente, quindi se volete vedere un sacco di boni, un sacco di coltellate a destra e manca, e una serie scritta come Dio comanda, sempre che esista, io vi suggerisco di vedere Peaky Blinders, credetemi, cioè poi mi ringrazierete. E da qua non posso che attaccare, ovviamente, il mio primo suggerimento, che è a cavallo tra lo storico, che poi ci porterà alla nuova categoria, ovvero il fantasy, o comunque ciò che ha elementi un po' paranormali, un po' fantastici, eccetera eccetera, ovvero Outlander. Io penso che la conosciate tutti, non è una novità, però magari qualcuno di voi ancora non l'ha vista, e questo un po' mi porta ad avere dei dubbi sulla vostra sanità mentale, ma lo dico per voi, ovviamente no, a parte gli scherzi che sto facendo l'asina, però veramente l'amore che io non ho per questa serie, ma parliamone seriamente come abbiamo parlato delle altre. Outlander è una serie iniziata nel 2014, che è tuttora in corso, però racconta quattro stagioni e un totale di 55 episodi. Seguiamo la storia di Claire Randall, che dopo la seconda guerra mondiale parte per la luna di miele nelle Highlands scozzesi con il marito Frank Randall, e mentre sono in esplorazione a Craignadun, lei si ritrova all'interno di questa sorta di cerchia di pietre, e si ritrova catapultata nel 1743. In tutto ciò finirà nel mezzo di un'epoca di guerra, dove la Scozia e i clan scozzesi si ritrovano in guerra con gli inglesi, e in tutto ciò Claire troverà da un lato l'antenato del marito, Jack Randall, che però non ha nulla a che fare col marito, è una persona inquietante e crudele, e conoscerà una serie di clan, tra cui anche il clan Mackenzie, del quale fa parte anche il clan Fraser, e Jamie, e tra mille vicissitudini succederanno un sacco di cose, come faccio? È tutto spoiler, cioè Outlander, già dalla puntata 2 spoiler. Niente, io cosa vi posso dire? Questa serie ha tutto, ha quella vena un po' romantica, che a me di solito non mi piace, però devo dire che così l'amo, così amo tantissimo. E quindi, insomma, se non l'avete mai vista, ma tanto consiglio, cioè, che vi avranno dato tutti, guardate Outlander. Allora, e poi, invece, questa è una novità, a me è piaciuta nonostante i suoi grossi limiti, e ora un po' ve ne parlo, insomma. Sto parlando di A Discovery of Witches, che è una serie che è uscita a settembre, si è già conclusa la prima stagione ed è in preparazione la seconda. Conta otto episodi, quindi, insomma, la bingiate con una facilità disarmante. Racconta la storia di Diana Bishop, che fa la ricercatrice di lavoro e ha dei poteri che lei cerca in tutti i modi di nascondere, perché è molto in conflitto con la sua natura di strega. Si reca ad Oxford e nella biblioteca di Oxford trova un manoscritto che ha dei poteri magici. Purtroppo non si rende conto della sua potenza, ma in compenso tutti gli altri se ne rendono conto. E proprio grazie a questa scoperta entra in contatto con il vampiro Matthew Claremont, che diventerà un suo alleato, perché scopriranno che ovviamente ci sono tantissime persone che sono alla ricerca di questo manoscritto e anche quelli che dovrebbero essere dalla sua parte in realtà sono molto contro di lei e cercheranno di sfruttarle, cercheranno di catturarle, di ucciderla. E quindi i due inizieranno a difendersi a vicende, cercheranno delle soluzioni per saltarne fuori. Allora, secondo me è una serie da prendere un po' con le pinze, nel senso, ha degli spunti molto validi, secondo me le cose più valide sono innanzitutto le ambientazioni, è una serie che è veramente molto bella e piacevole da guardare, perché è tutto abbastanza giusto da questo punto di vista. Ho amato come hanno ritratto Oxford, ho amato come ci siamo spostati poi in Francia, in queste ambientazioni veramente molto affascinanti, caratteristiche e ben curate. Poi c'è Venezia, insomma ci sono tanti punti che secondo me hanno dato valore alla storia. Altro punto a favore è Matthew Goode, io l'ho già detto in altri video, però lui è uno dei miei attori preferiti, io lo trovo buonissimo, so che non è opinione molto diffusa, però insomma secondo me è estremamente affascinante, è vero che sta iniziando ad essere un po' più agé rispetto a tutti i giovincelli, però secondo me è uno di quegli attori super affascinanti e molto bravo. Lui fa una parte dove deve essere inquietante, fa il vampiro inquietante, che è proprio lui, cioè altra cosa positiva secondo me è la trama di fondo, secondo me la trama di fondo è molto figa, molto molto interessante, che avrebbe dei potenziali pazzeschi. Il tutto viene un po' rovinato da diverse cose negative, che secondo me non supera brillantemente la serie, tipo le questioni sentimentali, i rapporti uomo-donna, che no, proprio no, sono problematici a dei livelli incredibili, e in più un'altra serie di, diciamo, chiamiamole ingenuità, che secondo me ora sono un po'... nel senso che ora questo tipo di ingenuità probabilmente non è così forte, mi aspettavo un po' di meglio. Devo dire che comunque secondo me la serie è godibile, ve la guardate tranquillamente, tanto sono otto episodi, prende molto la storia, è una di quelle che ovviamente si regge tantissimo su questo fattore, e quindi secondo me è un buon prodotto da guardare. Un'altra serie che ovviamente se non avete mai visto non posso fare altro che consigliarvi, è True Blood. È una serie che è andata in onda dal 2008 al 2014 per sette stagioni ed un totale di 80 episodi, quindi bella, bella densa. Seguiamo la storia di Suki Steakhouse, che abita a Bontem, che è questo paesino della Louisiana, molto grezzo, molto brullo, eccetera, dove lei fa la cameriera, e un giorno al suo ristorante si presenta il vampiro Bill. Ci troviamo in un mondo dove i vampiri sono stati sdoganati, sono usciti allo scoperto, e stanno cercando ovviamente di ritagliarsi anche un peso in politica, stanno uscendo sempre nuove leggi che regolino un po' la convivenza tra umani e vampiri, anche se non è proprio semplicissimo subito, e ci ritroviamo in questo periodo un po' strano, dove tutto si sta andando a definire, e rispecchia molto lo spirito americano, non tutti sono pro, non tutti sono a favore, c'è chi sarebbe per soluzioni molto estreme, eccetera, eccetera. Suki però ha anche un potere speciale, che è un po' il segreto di Pulcinella, cioè molti sanno ma non tutti, e lei riesce a leggere nella mente, e quindi questo la rende un po' particolare, e scopriamo tante cose su di lei. E poi seguiamo una costellazione di personaggi molto tipici, molto caratteristici, che ci porteremo dietro per tutta la serie, sono tutti, però insomma secondo me è una di quelle serie che sono super appassionanti, riesce a essere trash volutamente, cioè è una di quelle serie che non ha paura di essere trash, ma anzi gioca tantissimo su questo fattore, anzi del trash, riesce a renderlo in modo molto appassionante, non è mai quel tipo di narrazione che cerca di sembrare qualcos'altro, e poi in realtà è una ciofeca, no? Cioè riesce a mantenere secondo me un livello tra la godibilità del tema e anche il suo volutamente esagerare, il volutamente essere pittoresco in queste situazioni, che secondo me è brillante, e ho visto poche serie tv riuscire a non prendersi così sul serio di questo genere, quindi secondo me è una di quelle cose che poi diventano addictive, cioè diventano una droga, ve ne vedete centomila puntate una dopo l'altra, quindi se non avete mai visto True Blood, perché state aspettando? Allora, visto che ho nominato del trash, e io sono sempre molto spaventata in realtà del trash, però ora ne seguirà una serie, una di quei prodotti che a me è piaciuta veramente molto, e che vedo che però è tipo scomparsa da tutti i radar, è Misfits, che trovate su Netflix. È una serie che è andata in onda dal 2009 al 2013, per 5 stagioni e un totale di 37 episodi. È una serie che è esattamente a cavallo tra il fantastico e l'adolescenziale, seguiamo dei ragazzi che sono stati condannati ai lavori socialmente utili, e che ottengono dei poteri dopo essere stati investiti da un temporale, da vari fulmini, insomma, e ognuno di loro avrà dei poteri molto strani, molto diversi, alcuni pericolosi, altri estremamente utili. E seguiremo le loro vicende, perché tutto è estremamente strano, qualcuno se ne accorgerà che hanno questi poteri. È una serie che secondo me unisce perfettamente il suo essere consapevolmente trash, con personaggi che io vi suggerisco tra l'altro di guardarle in lingua originale, se amate l'accento inglese, se amate lo slang inglese, vi cappoterete sulla sedia, perché veramente è divertentissimo. È una serie che vuole essere trash consapevolmente, e si prende in giro dall'inizio alla fine, con i suoi personaggi, con il modo di fare. Prende molto in giro anche la società inglese, e le sue peculiarità della vita urbana, potremmo dire. E anche seguire le varie vicende, ognuno che ha il suo carattere super particolare, super strano. E appassiona tanto, perché tutti i personaggi sono estremamente caratterizzati, molto molto interessanti l'uno diverso dall'altro, quindi insomma ragazzi, guardate le prime due stagioni, dopo secondo me non ne vale tanto la pena, cioè ni, però le prime due secondo me sono super godibili, quindi se non avete mai visto Misfits, è la classica serie teen, che però ha dei risvolti più intelligenti, secondo me delle intuizioni più sensate, che non si prende troppo sul serio, e quindi questo a me piace molto come atteggiamento. E sempre parlando di ambiente britannico, a tratti anche un po' trash, come non citare quella che è veramente una delle mie serie preferite, cioè Being Human. Serie inglese è andata in onda dal 2009 al 2013, per un totale di 5 stagioni e 36 episodi, più il pilota. È una serie che in realtà ha degli elementi fantastici che si inseriscono nel contemporaneo, nella realtà, e seguiamo la stranissima, casuale e imprevedibile convivenza tra un vampiro, un fantasma e un licantropo, che cercano a tutti i costi di vivere come persone normali, e quindi ognuno di loro ha un lavoro, ognuno di loro segue una routine, ognuno di loro cerca tutti i modi per, innanzitutto, riuscire a non vivere solo secondo la propria condizione di mostro, o di strano, o di quello che li definisce, e in più però devono anche avere a che fare con ciò che in realtà fa parte del loro mondo e della loro natura, quindi l'essere vampiro, l'essere licantropo e l'essere un fantasma. Per me è una serie bellissima, non c'è altro modo di raccontarvela, perché è molto umana, riesce a combinare tantissime voci diverse all'interno della sua storia, del suo dramma, tutti i personaggi sono estremamente in conflitto con loro stessi, con la propria condizione, ma riescono anche a prendere in maniera molto divertente ciò che gli succede, alterna toni molto diversi tra loro, si passa da situazioni assurde, divertenti, ma anche a una considerazione vera e proprio su cosa vuol dire essere diverso, su come cercare di nasconderlo, come forse nasconderlo non è la soluzione migliore, perché non sarà mai la soluzione definitiva. Davvero, questa è una delle mie serie preferite, se non l'avete mai visto, dategli una chance, perché tutti gli attori sono bravissimi, tutti gli attori sanno qual è il loro ruolo all'interno della narrazione, lo riescono a rendere in maniera molto personale, molto brillante, quindi ragazzi guardate Being Human, perché quando è terminata per me è stata veramente un colpo al cuore, e davvero, guardatela. Poi invece torno un po' sull'area trash, ma perché qua alterniamo toni positivi a toni no, con una serie sempre legata al mondo fantastico, elementi fantastici, che secondo me è molto interessante da vedere e che vi consiglio, ovvero Sleepy Hollow. È una serie americana che è andata in onda dal 2013 al 2017, per un totale di 4 stagioni e 62 episodi. E proprio come nel film, noi seguiamo la storia di Icabot Crane, anche se in maniera decisamente diversa, perché Icabot, morto in battaglia con il famoso Cavaliere Senza Testa, si risveglia dopo 250 anni, è nel ventunesimo secolo e non sta capendo cosa sta succedendo, e scopre che oltre a se stesso si è risvegliato anche il Cavaliere, e questo potrebbe chiaramente essere un problema. E grazie al fortuito incontro con Abigail, che è una detective veramente molto brava e astuta, che sta cercando di entrare nell'FBI. E insieme si troveranno a dover risolvere questo problema, scoprendo che però non c'è mai fine al peggio, diciamola così, perché veramente succederà di tutto. Questa è una serie che io devo dire che, per essere molto leggera con me, tratta veramente di temi abbastanza macabri, abbastanza pesanti, ci sono invocazioni demoniache, ci sono possessioni, ci sono realtà parallele con mostri e con demoni, insomma, per me è una serie che comunque riesce a mescolare tanti toni, cioè un po' la sdrammatizzazione all'americana, che io di solito non amo, però in questo caso secondo me è dosata molto giusta. Ci sono questioni molto torbide, molto scure, riesce ad alternare un po' la leggerezza a punti molto drammatici, che secondo me la rendono una serie molto originale e che vi consiglio se non l'avete mai vista, anche perché ne ho sentito parlare molto poco, però, insomma, binge it. Vabbè, sempre poi se amate possessioni demoniache, Penny Dreadful, Salem, se non le avete mai viste guardatele, non voglio approfondire perché ho veramente ancora un sacco di serie delle quali parlarvi, comunque Penny Dreadful è uno dei miei grandi amori, tutto è bellissimo in Penny Dreadful. Di tutt'altra natura invece è la serie di Le Revenants, io non parlo francese, se non si dice Le Revenants, ditemi come si dice, non scassatemi le basse, scrivetemelo sotto. Comunque è una serie francese andata in onda dal 2012 al 2015, nel senso che sembrava una serie finita nel 2012, poi nel 2015 ci hanno dato la seconda stagione, due stagioni, 16 episodi, quindi rapida e indolore, cioè indolore poi ne possiamo parlare. Comunque ci troviamo in questo paesino di montagna francese, dove c'è una diga e diversi anni prima uno scuolabus è precipitato uccidendo tutti i passeggeri, compreso l'autista. Ci ritroviamo anni dopo e alcuni di loro sono tornati. Camille, che è quella che noi seguiremo di più, si ritrova con lo stesso corpo, le stesse idee, le stesse fattezze, a tornare, come se non fosse successo nulla, dall'oggi al domani, si ritrova a dover cercare di capire cosa è successo, perché lei non sa nulla, non si ricorda assolutamente nulla. E insieme a lei tanti altri. Cercano tutti di tornare alle proprie vite, ma anche di capire cos'è successo e perché sono tornati. In parallelo alla loro ricomparsa, iniziano a succedere cose molto strane, salta spesso la luce, ci sono dei loop temporali, la diga inizia a creparsi. Questa serie, che apparentemente potrebbe sembrare una serie zombie, non lo è assolutamente, ha un realismo pazzesco, è soprattutto una serie incentrata sul significato di queste cose, sull'esistenza, sul ritornare, sul superare il lutto, la tragedia, e invece vederselo risbattere in faccia. Insomma, ha una fotografia tra l'altro e delle scelte registiche che secondo me sono pregevoli, sono davvero bellissime, questi colori sempre un po' cupi, queste inquadrature che alternano gli stretti sui volti, all'immensità dei paesaggi, a queste riprese aeree che seguono un po' la cittadina, perché parla soprattutto di dimensione umana e significato del ricordo, del perché si ritorna. È una serie bellissima, molto, molto inquietante, senza risultare mai horror, perché l'inquietudine ti viene data da ciò che succede, non hai bisogno di spaventi, non hai bisogno di situazioni estreme, è solo che tutto è reale, tutto è assurdo, tutto ti sembra fuori di testa. Io è una serie che amo profondamente, che davvero trovo sempre troppe poche persone che l'hanno vista e non me ne capacito. C'è anche la serie The Returned, che credo sia di Netflix, guardate la serie francese. No, non ha proprio senso vedere i remake, a mio parere. Guardate la francese perché è veramente bellissima. C'è anche questa su NaoTV. E sempre a proposito di persone che tornano, una delle mie serie preferite del tempo, quando ero adolescente, è True Calling, che è andato in onda dal 2003 al 2005 per due stagioni e un totale di 26 episodi. Narra le vicende di True Davis, che è un'impiegata dell'obitorio comunale e True scopre di avere un misterioso potere che le permette di rivivere le giornate dei morti per cause ovviamente accidentali e violenta che si trova davanti nell'obitorio. E quindi lei ha la possibilità sempre di tornare indietro e cercare di sistemare o cambiare il corso degli eventi. Ogni episodio racconta ovviamente tantissime stories, tantissime vicende. Seguiamo anche come True cerchi sempre di trovare la soluzione migliore e dare una possibilità a persone innocenti di vivere la propria storia. E True scoprirà che proprio grazie ai suoi morti riuscirà a risolvere o comunque a cercare le verità anche sulla sua famiglia. Per me è stata una serie che mi ha proprio appassionata tantissimo quando ero molto giovane, non come adesso, e quindi io ve la consiglio. So che non ne parla mai nessuno perché probabilmente sono passati troppi anni eccetera, però ragazzi se non sapete cosa guardare non l'avete mai vista True Calling tutta la vita. E invece a proposito di serie un po' trash che in realtà secondo me se la sono cavata meglio del previsto, voglio suggerirvi The Siren che trovate su Team Vision. Serie andata in onda per la prima volta nel 2018, quindi quest'anno, e che è in produzione per la seconda stagione. Per ora abbiamo una sola stagione di dieci episodi. Ci troviamo nella cittadina dell'Alaska di Bristol Cove che è famosa per le sirene, per gli avvistamenti di sirena, per le leggende sulle sirene, e viene sconvolta dall'arrivo di una giovane donna, Rin, che compare dal nulla, non parla, ed è un po' inquietante, un po' strana. Inizia a creare scompiglio perché sta cercando una persona, una donna che è stata rapita dall'esercito americano e del quale lei non ha più notizie. È tutto molto complesso, riuscire anche a comunicare per Rin. Niente, praticamente, scopriremo che le sirene non sono solo una leggenda, ma anzi. Premessa, quando io stavo iniziando questa serie lo volevo mettere come sottofondo per dormire. In realtà, vista la prima puntata, sono arrivata la quinta super in fretta. Sono puntata abbastanza lunga, quindi ci vuole un pochino. Però devo dire che pensavo fosse la classica super trashata, ma ha degli elementi molto positivi, secondo me. È una serie abbastanza godibile, quindi se proprio proprio non sapete cosa guardare, non la sottovalutate. Ha un aspetto in parte un po' trash, alcune dinamiche che secondo me non aggiungono nulla, però la storia di fondo è molto interessante. Non è originalissima come storia sulle sirene, però devo dire che comunque si lascia guardare con un grande piacere, molto godibile. Ci sono tante trame, sottotrame che accompagnano la storia di Rin, che secondo me arricchiscono solamente tutto questo immaginario, quindi devo dire che io non gli avrei dato un euro e in realtà mi sono trovata a divorare la prima stagione, un po' di quelle sorprese che dici alla fine non mi è dispiaciuta. Poi vabbè, il mio ultimo consiglio fantasy della giornata è uno di quei libri che io amo e quindi la miniserie che la BBC ci ha regalato nel 2015 non poteva essere che uno splendido regalo. Come tutte quelle della BBC è una miniserie e conta di sette episodi. Ci troviamo a cavallo tra le guerre napoleoniche e in un mondo dove la magia è nota a tutti, non è una cosa strana. Non so se voi avete mai letto il libro, il libro è bellissimo, io lo amo. E la magia è nota a tutti, però nessuno è più in grado di usarla da tre secoli. Finché non arriva questo Norrell che afferma di saper usare la magia e di praticarla e ovviamente essendo la prima persona dopo secoli che può usare la magia, lo portano a Londra e a Londra lo presentano ovviamente a quelli che contano. E il destino di Mr Norrell si legherà in maniera molto casuale con quello di Jonathan Strange che è un personaggio molto diverso da lui. Da poco è diventato un ereditiere, un po' scavezza collo e scopriranno che sotto tutto questo c'è una grandissima profezia e altre cose che sono spoiler. Ragazzi, secondo me, quindi io non ve lo dirò, ragazzi, se potete recuperatela perché non ne ha mai parlato nessuno perché da noi secondo me il romanzo di Jonathan Strange e Mr Norrell non è famosissimo. Questo è un grandissimo peccato e anzi è veramente una cosa tristissima però se vi capita recuperatelo fidatevi che è fatto davvero molto bene. Vabbè, è della BBC quindi è fatto bene per forza. Niente, io avrei anche altri suggerimenti animati però direi che è già venuto un video eterno anche oggi quindi ragazzi la finiamo qua e avrei anche altri suggerimenti ma basta. magari faremo puntata 2 più avanti chissà vediamo insomma io spero che questo video sul binge watching selvaggio possa darvi alcuni spunti che magari non avevate considerato altri che magari avete già visto e amato come è successo a me insomma sono molto curiosa quindi io come sempre vi ringrazio per essere stati insieme a me e direi che se avete visto qualcosa delle serie che ho citato qualcuna non l'avete vista fatemelo sapere giù perché sono molto curiosa io direi che per oggi è tutto spero di avervi tenuto compagnia e ci vediamo alla prossima puntata ciao